Salve a tutti, benvenuti da Stefano Ghetti. Come previsto l'alta pressione a piccoli passi sta riconquistando il bacino del Mediterraneo. Dunque un weekend ci aspetta con tanto sole, caldo in moderato aumento ma ancora con qualche insidia. Ci riferiamo ai temporali pomeridiani che continueranno a svilupparsi sui rilievi alpini, prealpini e occasionalmente questi temporali cercano di spingersi verso le zone limitrofe di pianura ma si fermano quasi sempre sui fondi valle. Sono temporali peraltro, attenzione, perché possono risultare a tratti anche di forte intensità. Sul resto del paese invece il tempo continuerà a mantenere connotati di discreta stabilità atmosferica. Mettiamo in conto qualche nuvoletta di passaggio, forse qualche addensamento nelle ore più calde a ridosso dell'Appennino. E a proposito di caldo, le temperature chiaramente stanno facendo registrare un generale aumento dopo la diminuzione dei giorni scorsi. Ci sarà un po' di caldo nel fine settimana ma sarà comunque un caldo decisamente più sopportabile rispetto al bollore dei giorni scorsi quando abbiamo avuto temperature decisamente alte. Parliamo adesso di temperature che potrebbero arrivare anche a toccare picchi di 35-36 gradi ma questo soprattutto sulle regioni del sud, sulle isole maggiori. Al centro Italia avremo valori prossimi ai 32-33 gradi, più o meno anche come in Val Padana a 31-32 gradi. È chiaro che adesso aumenterà un po' anche il tasso di umidità, aumenterà un po' l'affa ma ripeto resteremo comunque in un contesto decisamente più sopportabile rispetto alla forte ed eccezionale ondata di caldo che ha interessato nel corso sempre di questa settimana e anche con la fine della scorsa un po' tutto il nostro paese portando davvero valori record. Adesso insomma ci godiamo una sorta di estate un po' più consona e normale ai nostri standard climatici. Per ora è tutto amici, a più tardi!